Siamo nel quartiere di Via Grigendo dove si conclude la novena di Natale con l'arrivo dei Rimaggi. Ma se i Rimaggi nella tradizione popolare portano oro, incenso e mirra, qui nel quartiere di Via Grigendo portano invece la minestra di San Giuseppe. È uno dei piatti più tipici di Favara che viene proprio fatta nei momenti più importanti, qual è appunto il Natale, un mix di pasta, di verdure, di legumi, insomma di tutto quello che il quartiere offre perché si fa una raccolta popolare che poi viene assemblata, viene cotta e distribuita naturalmente a quanti vengono qui a far visita al presepe. Questa è la tradizione del presepe di Via Grigendo, ma parliamo con i protagonisti. È stato bellissimo, un paio di settimane di lavori per arrivare a questo punto come state ben vedendo e tanta partecipazione. Oggi minestrata dal quartiere, minestra Cugliuta noi diciamo qua a Favara in Cugliuta perché abbiamo girato il quartiere con due asinelli, con i bambini perché è il nostro obiettivo far vedere ai bambini che cosa noi vogliamo fare, il loro futuro, cerchiamo di farlo capire a loro per quello che faranno loro il prossimo presepe. C'è stata l'aggregazione, la partecipazione, la voglia di essere insieme? È stata tanta, è stata tanta. Ogni giorno mi arrivavano messaggi, chiamate, non sapevo come... Abbiamo amalgamato un po' tutto come questo minestrone, abbiamo cercato di fare il tutto per il bene del Paese. Ci siamo riusciti, siamo contenti di questo, è stato bello, grazie ai ragazzi perché da solo non si può fare niente, grazie al quartiere, grazie alla cittadinanza, è arrivata gente da fuori pure. È stato bellissimo, un momento bello di condivisione, cercheremo di riproporlo il prossimo anno. La minestra di San Giuseppe sì, perché è una tradizione, ovviamente nei secoli si porta la tradizione dei Re Maggi, Oro, Ingenza e Mirra, per noi è una tradizione la minestra di San Giuseppe. E la bellissima possibilità che abbiamo avuto è stata la raccolta, perché tutto quello che vedete qua dentro la pasta, i legumi, sono stati raccolti per il Paese con un asinello e due asinelli, e quindi la gente ha offerto quello che aveva a casa, come si faceva ovviamente nella tradizione popolare. Una tradizione che si perde nella notte dei tempi, quella del presepe, quella della novena, sposata anche con questa bellissima tradizione culinaria. Salve a riminare, ciò pino. Sempre, ininterrottamente, che salve a riminare è più buona avere. Se no pino! Se no pino! Chef, quali sono gli ingredienti principali? Allora, gli ingredienti principali sono sempre il tritato, il carote, il sede della cipolla, finocchio, finocchietto selvatico, broccolo, broccoletto, verza, azarca, poi legumi, ceci, fagioli. E poi vediamo diversi tipi di pasta, praticamente tutto quello che si trova? Tutto quello che si trova, tutto quello che la gente ci ha donato per questo evento. E questo è bello. Sette, otto, otto, nove, tipi, dieci di pasta, quello che c'è. Rupia, ma quanto ne avete fatta di pasta? Siamo già a 30 chili di calato. 33 chili. E trasportarla in porzioni quanto? Solo su 600 porzioni. Non l'abbiamo finito. Volevo dire una cosa, perché mi piace sottolineare questa aggregazione di varie tradizioni popolari e lo vediamo nei formati di pasta. La pasta tunita, così coci prima, così coci dopo, è bello poi mangiarla tutta assieme. C'è quella al dente, c'è quella a scotto, ma è come la gente. Siamo così. Quei cotto e che è frutto. E dobbiamo condividere. Buongiorno, Stefano. Arriva, arriva, signori. Un attimo, signori. Un attimo, signori. Un attimo.